Applausi ma anche insulti e protesta hanno accolto giovedì a Cutro il Consiglio dei Ministri del Governo Meloni. La Premier ha scelto di incontrare l'esecutivo nella cittadina calabrese, teatro del naufragio dello scorso 26 febbraio, proprio per omaggiarne le 72 vittime e approvare il nuovo decreto legge sull'immigrazione. Io penso che il modo migliore per onorare queste vittime sia fare quello che si può fare perché queste tragedie non abbiano a ripetersi. Allora noi abbiamo licenziato in questo Consiglio dei Ministri un decreto legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che noi siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia. Centrale nel decreto l'inasprimento delle pene per chi favorisce l'immigrazione clandestina e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per morte o lesioni gravi che prevede fino ai 30 anni di carcere. Tra le misure anche la semplificazione delle espulsioni, maggiori finanziamenti ai centri di permanenza e il ripristino dei cosiddetti decreti flussi.